Laiali al Shark, Notte d'Oriente. Grande spettacolo di danza orientale, sabato 24 novembre alle 20.30, presso il Resort Hotel Borgo Don Quixote, a cura di Saida e il Montassir. Lasciatevi incantare dalle sinuose movenze delle professioniste di danza orientale, Giada da Catania, Simona e Nadia da Siracusa, Mariam da Avola e Gulnur Danoto. L'ospite d'onore della serata sarà il maestro di fama internazionale Zaza Hassan dell'Accademia di Parigi. Potrete gustare una tipica cena arabo-mediterranea e pizza per i più piccoli, con possibilità di pernottamento nella spa. Info e prenotazioni al 339 77 59 815. Laiali al Shark, Notte d'Oriente. Appuntamento imperdibile, sabato 24 novembre alle 20.30, presso il Borgo Don Quixote, strada statale 115 Ispica Modica, località Bugilfezza. Notte d'Oriente. Appuntamento imperdibile, sabato 24 novembre alle 20.30, presso il Borgo Don Quixote, strada statale 115 Ispica Modica, località Bugilfezza.